Carità senza limiti. 31 marzo 1972. Figli miei. Eccomi. Sono il figlio di Dio. Per amor vostro steso e inchiodato sul legno della croce. Vi ho detto il mio amore in modo tangibile. Non potevo fare di più. Dal mio cuore sono uscite le ultime gocce di sangue unite a qualche stilla d'acqua. Sto esalando l'ultimo respiro. Sto compiendo fino all'ultimo la volontà del padre. Ora guardatemi. Il mio corpo deve dirvi qualche cosa. Deve darvi degli insegnamenti. Ecco le mie braccia stese. Le mie mani inchiodate. La volontà del padre vogli compiere fino all'ultimo. Ma se mi volete imitare. Dovete voi pure fare la volontà del padre. Che cosa vuole il padre da voi? La perfezione. Figli. E questa vita deve essere per voi una conquista continua. Di quella santità a cui siete invitati. A cui dovete tendere. La volontà del padre è che voi pure abbiate come me a stendere le vostre braccia per amore del prossimo. Non abbiate alcun limite nel prodigarvi per i miei fratelli. Se vi tolgono la libertà. Sappiate che chi serve il Signore è veramente libero. Guardate ancora il mio corpo. Il capo reclinato e cinto da una corona di spine non vi dice nulla. Se vogli chinare il mio capo lo feci per insegnare ad essere obbedienti ed umili. Sapeste. Figli. Quanto è meritoria quella delicatezza che deve caratterizzare la vostra obbedienza a chi riveste una giusta autorità. Ma quanto è anche meritoria quella umiltà che vi mette in uno stato di bisogno di fronte a chi vi sta vicino. Come mi assomigliano coloro che vedono nei fratelli il mio volto e che a tutti chiedono con amabilità e con dolcezza quella collaborazione che è tanto proficua. Se guardate il mio capo. Coronato di spine. Potete immaginare quanto mi ha fatto soffrire la superbia degli uomini. Ogni spina rappresenta una categoria di persone e quando la soldataglia conficcò quelle spine. Io vedevo e pensavo alla superbia degli uomini che, negando la verità della fede, non mi avrebbero accettato come redentore e salvatore. Vi aiuti questo pensiero a vincervi e a combattere quel terribile difetto della superbia, che basta da solo a chiudere le porte del paradiso. Siate umili e benedite il Signore che, per mezzo mio, vi vuole indicare come e fino a che punto dovete umiliarvi. Guardatemi ancora, figli. Vedete il mio corpo nudo. Se con questa nudità dovetti espiare i peccati di impurità. Dovevo anche darvi un esempio di estrema povertà. Nudo vogli apparire agli occhi degli uomini, per dirvi quanto sia necessario spogliarsi di ogni attaccamento alle cose e dalle persone del mondo. Il distacco dai vostri beni, dalle vostre cose, da ciò che passa specialmente da voi stessi. Ecco, figli, come si imita. E da me, che vi apro le braccia per dirvi il mio amore? Voi dovete. Voi potete rispondermi imitando il mio atteggiamento di Dio crocifisso. Vi apro la ferita del cuore, fatta da longino con la lancia. E vi accolgo uno a uno. C'è posto per tutti. Ma un posto di privilegio l'avete voi che mi amate e desiderate farmi amare. Chi conosce questo libro, Il Crocifisso, può leggervi le meditazioni più sapienti e più profonde. Chi ama il crocifisso e raccoglie dalle piaghe del suo corpo il sangue che sgorga, ne può fare un'offerta quanto mai gradita al Padre. Il sangue di Abele gridava vendetta al Padre per l'uccisore Caino. Ma il mio sangue, raccolto dai miei crocifissi ed offerto al Padre, è voce che invoca misericordia e pietà. Figli, sono rimasto con voi ed ho goduto della vostra serenità. Quando il Padre è con i Suoi figli non si può piangere. Non dimenticate però che a ciascuno di voi con sincerità posso dire. Figlio, o figlia, ricordati. Io sono morto in croce per te e da te attendo l'attestazione del tuo amore. Non partite, vi prego, da questo luogo santo senza aver concretizzato i vostri propositi. Non molti, ma semplici e chiari. Vi benedico, figli miei, e vi abbraccio per unirmi a voi in una comunione perfetta. Il dono che il vostro ministro mi ha chiesto per tutti sarà esaudito.